Ciao, ciao a tutti. Ha avuto un'ora di ritardo, quindi è quasi ovvio che anche la conferenza stampa slitti e diciamo che l'orario orientativo è verso le 20 e 30 italiane, a breve avrete ulteriori conferme. Nel frattempo noi siamo ospiti della redazione di Abola, il più importante quotidiano qui in Portogallo, grazie a Nuno Paralvas. e gli chiederemo adesso un po' l'humore della città, le sensazioni e soprattutto le aspettative per il match di domani. Buona notte Nuno, grazie per l'invito. La prima domanda che voglio fare per voi è qual è la sua sensazione per il gioco di avanti e qual è l'humore da Città? Città è confiante per questo gioco? Beh, il obiettivo del Benfica è passare alle 8e di finale della Liga dei Campeoni. E la sensazione che ha è di che ha buoni condizioni per conseguire, perché decide tutto nel ultimo gioco in casa. Mesmo che il Napoli sia, magari, l'adversario più forte nel gruppo. È vero che il Benfica è finito di perdere con il Maritimo, è stata la prima derrota nel campionato nazionale, ma la expectativa è di che possa, soprattutto tra gli adepti, possa dar la volta già questa situazione che viveva nella Madeira con il Maritimo e possa vencere e qualificare per le 8e di finale. Il nostro collega dice che, innanzitutto, riconosce il Napoli come forse la squadra più importante di questo gruppo, la più forte, tuttavia c'è un discreto ottimismo qui a Lisbona perché il Benfica è una squadra di qualità ed è una squadra che, soprattutto, si esalta tra le Muramiche. è proprio su questo punto della squadra, ossia sul fattore casalingo. Ma è vero che il Dalù va essere lotato avanti? Non so se saranno 65 mil persone, ma la informazione che abbiamo è che ci saranno più di 50 mil. ci saranno quasi di sicurezza casa cheia. Ci saranno 55 mil, più di 60 mil. De qualche da forma, ci saranno un grande entusiasmo in relazione a quello che il Benfica può fare da parte del stifosi. Sono molto entusiasmato con quello che il Benfica ha fatto, a lungo, soprattutto a lungo desti tre anni che fu consecutivamente campeone, continua in fronte del campeonato, l'anno passato ha fatto una Champions molto buona, fu solo eliminato per il Benfica nei quarti di finale. Quindi, ha un apoio molto forte alla squadra, anche quando succedono maus risultati, il pubblico sta con la squadra. La squadra ha fatto molto credito, la direzione, questo trenatore ha fatto molto credito, non è un malo risultato che va a fare con che gli adepti se separano della. Per questo, come dice Iomikoli, va a essere un ambiente molto favorabile al Benfica, ma, chiaro, penso che come il Benfica non perdeva in Nápoles per causa del stifosi, il Nápoles non va a perdere o ganare per la influencia che ci saranno. Penso che sarà più importante per il Benfica, in una perspetiva di sentire confortabile con gli appoi dei adepti, do che il Nápoles avere difficoltà a lidare con l'ambiente. Il collega praticamente ci dice, io ho chiesto se probabilmente c'era il tutto esaurito, ci diceva che addirittura 65 mila non vi è certezza, sicuro quasi comunque che ci siano almeno 55 mila, il che comunque rende l'idea dell'entusiasmo, del grande impatto che ha avuto questa partita sui tifosi del Benfica, ma è anche ovvio, insomma parliamo di Champions League, parliamo del match della Champions League, perché ricordiamo gli altri gironi sono praticamente quasi definiti, mentre questo è il gruppo dove più c'è da discutere sulle posizioni. Ricordiamo Napoli primo a otto, segue il Benfica a otto, c'è il Besiktas a sette, quindi insomma non è assolutamente semplice. Nuno Palarvas ci diceva anche che il fattore casa sarà importante più per il Benfica che per il Napoli e sarà più un entusiasmo per le Aquile che insomma un motivo per deprimere i partenopei, come lui riconosceva il Benfica non ha perso a Napoli per i tifosi, ma per la partita, così quindi non c'è da considerare il fatto che il Napoli sia intimidito da un ambiente come quello che domani troveremo, piuttosto il Benfica sarà esaltato. Ma cosa succede nel gioco d'Aida, che tutto il mondo immaginava un gioco ben aperto e succede quella goleata iniziale? Sì, se ti ricordi, la prima parte del Benfica è molto buona, il Benfica creò occasioni, per acabar il primo tempo a ganare. E poi penso che fu un desastre in sete minuti, che non riflette quello che è il valore delle due equipi. Il Benfica poi acaba per reagire in una altra in cui il Napoli si sente confortabile con 4-0, ma quel periodo di 8 minuti, 7 minuti, in cui il Napoli marca 3 goli, non è il normale in un gioco di fottobolo. Acontecevano molti errori per il Benfica. È un desastre per il Benfica, perché anche non sta abituato a quello che succede, ma non riflette quello che è il valore delle due equipi. Sostanzialmente ci ricordava, ed effettivamente è così, che il Benfica a San Paolo ha fatto una grande partita per quanto riguarda i primi minuti, i primi 20 minuti. Poi, insomma, c'è stato il disastro, come il collega lo definisce, disastro però relativo a quei sette minuti in cui poi c'è stato il blackout totale e che ha portato a una partita chiaramente condizionata con un Napoli esaltato e, come lui diceva, disastro perché il Benfica non è abituato a questo tipo di sconfitte, ma soprattutto con questo tipo di atteggiamento e, cosa che sottolineava anche precedentemente comunque, l'umore dei tifosi non è stato condizionato né dal match d'andata, né tantomeno dall'ultima sconfitta col Marittimo, quindi domani c'è lo stadio, in ogni caso pieno, pienissimo, ma soprattutto c'è grande entusiasmo. O che vuoi aspettare del gioco dell'Ucraina tra Dinamo Kiev e Besiktas? Voi pensi che il Dinamo potrebbe fare qualcosa, potrebbe ottenere un punto, così che sia Napoli sia Benfica che passano? Non so, perché il Dinamo Kiev già aveva risultati buoni, già giocò bene contro Napoli e già aveva risultati maus. È un po' imprevisibile. In ogni caso, penso che ho Besiktas è il favorito per vencer in Kiev. E questo farà che qualsiasi delle squadre che, qui nel Stato della Luz, ha di giocare per vencer. E tornare il gioco per noi giornalisti molto più interessante. In ogni caso, per aver guardato il gioco e a tentare marcar. E imprevisibile, nella mia perspettiva, penso che tanto ho Benfica come che come Napoli non può ingannare. La prestazione dei partenopei chiaramente sottolineava che il Benfica domani non giocherà per pareggiare né tantomeno il Napoli e quindi insomma entrambe cercheranno la vittoria per passare senza attendere notizie dall'altro campo. Qual è la sua lembranza del gioco di molti anni fa quando il Benfica venceva per 3 a 2 contro il Napoli? Era un Napoli differenzi, totalmente differenzi. Era un secondo anno che ficava nella primera divisa d'Italia. Che lembranze avete da quel gioco? Mi ricordo che a San Paolo la partita è stata molto difficile per il Benfica e dopo l'andata a Lisboa con due gol, uno di Nuno Gomes e uno di Benfica. Il Benfica era anche una squadra differente, una squadra che cominciava a essere il cammino per essere forti come è oggi, forti a Portogallo. Non era la squadra di oggi che ha vinto tre scudette consecutivi. Era l'inizio, Di Maria giocava nel Benfica, non era titolare. Figurati Suazo, ti ricordi Suazo dell'Inter? Era l'attaccante importante di Benfica. Credo che non ha giocato l'andata a Lisboa ma ha segnato a San Paolo. Anche Benfica era differente, diverso da questo di oggi. Benfica oggi è una squadra, un club, una società molto più organizzata. che non pensa solo al presente, pensa al futuro, a un'accademia, una scuola di calcio dove si stanno formando giovani con molti talenti. Gli ultimi anni ti ricordo, mi ricordo di Bernardo Silva, Almonaco, João Cancelo, Valencia, chi è più. Sono tanti. Sono tanti. E adesso questa squadra, Nelson Semedo, difensore destro, che è molto bravo. Anche Gonzalo Guedes, che è una confermazione. Sì, ha fatto anche 20 anni. Sì, 20 anni. Solo 20 anni. Sì, ha segnato. Benfica ha cominciato un cammino difficile perché il Porto dominava il calcio portoghese. Il Benfica ha sempre, come ti dire, i tifosi sempre con la squadra, ma a questo punto ha più fiducia, i tifosi hanno più fiducia al Benfica che in queste stagioni di 2008. Allora, credo che con il Napoli sia lo stesso perché Sarri sta facendo bene, ha una squadra forte che pensa al squadetto. Allora, io per questo penso che sono le due società che stanno crescendo. Assolutamente facciamo i complimenti al collega Nuno Paralvas per il suo italiano, fin troppo umile. ci diceva, quando ci ha accolti, che parlava italiano, ma era un italiano abbastanza, come dire, arrangiato. Invece possiamo dire tranquillamente che parla un ottimo italiano, è stata una sorpresa anche qui in diretta per me. Non immaginavo parlando sempre portoghese. L'ultima domanda, l'ultima domanda, è Sobre a Scala a Sao do Rui Vittoria e a sua a previso do ciò con un placar, se voi gostariete a postare. Io non sono un ragazzo di scommessi, ok? Allora, non credo che... Credo che il Befica può giocare con la stessa squadra che ha giocato con il Marittimo, sia Ederson. Ha giocato Giulio Cesar, ma una serata horrible per Giulio Cesar e dopo Nelson Semedo, Luizão, Lindelof e il difensore sinistro André Almeida, perché non c'è Grimaldo e non c'è Eliseo. Sono infortunati e dopo il centrocampista difensivo sarebbe Faisa, questo è indiscutibile. Alla destra del mezzocampo, il centrocampo, Salvio, Pise e dopo la sinistra serve i due centravanti, sono Gerdes e Mitroquo. Perfetto. Qui abbiamo concluso per adesso, il nostro do the force continuerà tra poco, perché ricordiamo alle otto la conferenza stampa di Rui Vittoria, otto ore italiane, seguirà quella di Maurizio Sarri a causa del ritardo dell'aereo. Diamo appuntamento pertanto a più tardi, nel frattempo ringraziamo nuovamente il collega Nuno Paralvas, l'intera redazione di Abola che ci ha ospitato e ci ha concesso anche molto gentilmente questo spazio della sala riunioni per scambiare queste chiacchiere. Insomma, l'augurio è che possa essere una grande partita, che vinca il migliore, che passi il migliore. Ringraziamo ancora una volta tutti per averci accompagnato. Ringraziamo ancora una volta.